Buon pomeriggio a tutti, benvenuti e ben ritrovati in un nuovo video sul mio canale. Quest'oggi siamo qua per parlare di tennis, quest'oggi siamo qua per parlare dell'Australian Open. Ebbene sì ragazzi, oggi sono qua per parlarvi del day one dell'Australian Open. Questo video lo starete vedendo alle 5 del pomeriggio. Se volete possiamo vissare questo orario un attimo per fare le cose più chiare. Mi raccomando, prima di passare però al video recap di questa prima giornata di tennis in quel di Melbourne, iscrivetevi al canale. Ragazzi, il canale sta andando benissimo, stiamo facendo una marea di iscritti ogni giorno, cerchiamo di arrivare a 300 iscritti entro la fine dell'Australian Open. Mancano ancora 14 giorni, il tempo ce n'è, però mi raccomando iscrivetevi al canale, chiamate i vostri amici, i vostri parenti, i vostri cani. Chi più ne ha più ne metta, la vostra ragazza, il vostro ragazzo, chiunque voi vogliate, chiamatelo, mi ditegli di iscriversi o ditele al canale. Non dimenticatevi di fare ciò che è fondamentale, di fondamentale importanza. Andate a vedere il video che è uscito oggi alle 2.20, alle 2.30 più o meno. Oltre a questo vi invito anche a condividere il video, l'unico modo per far crescere il canale è condividere il video a più persone possibili, quindi fatelo. Poi, a voi che non siete iscritti e guardate i video, cosa aspettate? Iscrivetevi al canale e facciamo crescere la community del tennis italiano il più possibile. Iscrivetevi al mio canale e anche a quello degli altri creatori di contenuti per quanto riguarda il tennis. Dopodiché, vi invito anche a lasciare un like. Ragazzi, tutti i video stanno ricevendo molti like, più del solido. Cerchiamo di continuare su questa, cerchiamo di cavalcare questa cresta dell'onda al completo, cerchiamo di avere 5, 10, 8 like. Mettete like, non mettete solo video, mettete anche like. Se volete lasciate un commentino, ma quello è meno importante, ma lasciatelo lo stesso se volete, se sentite che sia la cosa corretta da fare. Condividete il video, attivate la campanellina e io credo di avervi detto tutto. Questa sera alle 9 uscirà il consueto video, uscirà un video che uscirà alle 9 per 15 giorni di fila, che è il video analisi e i pronostici delle partite del giorno dopo. L'avete scelto voi di metterlo alle 9, honestamente l'avete fatto bene solo perché le 11 era troppo tardi, però le scelte erano quelle che vi ho messo. Ragazzi, partiamo subito. Allora, prima partita dell'Open Australia, io partirei dal femminile. Dai, partiamo dal femminile. Fernandes batte Bezlek 2-7 a 0, mi aspettavo la sua vittoria. Rakimova batte Bektas 2-7 a 0. Peccato per Lucia Bronzetti che perde in remonta contro Zurenko. Lo avevamo detto che probabilmente avrebbe già perso con l'Ucraina. E avevamo anche detto che qualora fosse stata in grado anche di imporsi contro la destra di Sennaro numero 28 del torneo, il massimo che poteva fare era un terzo turno perché poi contro Sabalenka era veramente improbabile pensare di poter anche solo giocare una partita pari. Peccato perché comunque se il primo set l'aveva vinto 6-3 in modo anche abbastanza convincente. Poi però Zurenko è salita in cattedra per quanto, per quanto si poteva arrivare al tiebreak. Però non è successo, alla fine vince la giocatrice, la tenista ucraina per 6-3, non so termine, per 3-6, 7-5, 6-3. Dopo Krasikova batte un tau e inizia bene, inizia bene anche se ha fatica la sua nuova per Krasikova. Krasikova ragazzi che si trovava anche sotto di un break, credo addirittura, 2-3-4, sì. Si trovava addirittura sotto di un break nel secondo parziale, poi provava a rimontare nel femminile break. Perché ragazzi sono una cosa che accadono all'ordine del giorno, veramente. Comunque sia, vittoria per la tenista scelta per 2-6, 6-4, 6-3. Dopo Avenazian batte Bai 2-7 a 1. Korpac batte Burraggi in 3 parziali. Parks batte Snigur 2-7 a 1. Fruhirtova batte Bodgan 2-7 a 1. Timo Fiva batte Cornet 2-7 a 0. E ragazzi qua magari Cornet poteva fare qualcosa di più, comunque sia una partita difficile. Però magari qualcosa di più poteva sperare di farlo. Alla fine non è stato in grado di essere chissà quanto competitiva. Forse in qualche momento. In questo caso 6-2-6-4 per la russa. Poi Sacca ribatte a Ibino 2-7 a 0. 6-4-6-1. Buona vittoria di Maria Sacca. E ci aspettavamo con la tenista giapponese. Vediamo se riuscì a riprendersi a questo vento Australia. Parry batte Wong 2-7 a 1. Anisimova batte Sams Donova 2-7 a 0. E Corniva batte Sorribestormo 2-7 a 1. Doleide batte Zhenjin o è che si dice. 2-7 a 0. Wozniaghi ragazzi usufruisce anche di un retiro di Linette. E ragazzi Linette perderà moltissime posizioni nel ranking. Questo per fare una mossa che spero che non sia catastrofica. Ma l'ho già fatta in altri video che è andata bene. Comunque sia, stavo dicendo, anzi no, non evitiamo di fare casini. Stavo mettendo il telefono di fronte al tablet. Comunque sia, vi stavo dicendo che ho scuso per l'interruzione un po' brusca. 6-2-2-0, vantaggio. Wozniaghi, Linette, Sientia. Insomma, la Wozniaghi non l'ho messa al fanta perché ho messo Gregor Dimitrov. Perché se no può andare ancora più avanti. Però Borsa potrebbe pentirmene. Comunque sia, lo sapevo che Wozniaghi è. E ho deciso se mettere lei o Dimitrov. Alla fine ho scelto, ho optato per Dimitrov. Comunque sia Wozniaghi buona vittoria. Sabalenka batte una Seidel che si è anche emozionata sul 6-4-4-0. Insomma, poi alla fine Sabalenka ha concesso a King Game. Non perché gliel'abbia concesso ma perché lo ha perso. Semplicemente è stato bravo la Seidel a vincerlo. Poteva vincere 6-0-6-0. Insomma, alla diciottene si stava anche mettendo a piangere a un certo punto. Cosa che potevamo aspettare che ci accadesse. Comunque se Sabalenka oggi è dominato. È un po' difficile giudicare la condizione di Sabalenka che sembra ottima. Però obiettivamente contro teniste di una o due categorie inferiori alla Bielorossa è difficile. Mi viene difficile, ci viene difficile andare a dare un giudizio sulla prestazione e sulla posizione di Sabalenka rispetto a un potenziale titolo finale. Perché onestamente è una tenista nettamente inferiore rispetto alla Bielorossa. Per il momento non molti upset. Invece passiamo al maschile. Bella vittoria di Arnaldi in tre set. Buona vittoria, sono veramente contento per Matteo. È la partita di umano del primo set, poi subito contro break. Poi contro break anche quando il tennista Stane non stava servendo per il set. Dopo il primo set è tutto in discesa. Bravo vincere in primo set. Tutt'altro che semplice il tennista azzurro. Bravissimo Arnaldi. 7-6, 6-2, 6-4. Sono contentissimo per l'italiano. Bene così. Tai per quinto 7-5. Poi dalla partita in discesa. 6-2, 6-4. Non ha concesso più un break. Forza così. Bella vittoria di Arnaldi. Sono veramente contento. Munar batte Shevchenko. 3-7-0. Ragazzi, brutta prestazione di Shevchenko. Indubbiamente spento. Munar sicuramente sorprenderò qua. Io onestamente e anche le quote, ma in generale, potevamo aspettarci il russo uscire da questo incontro trionfante. Invece è stato tutto il contrario. È stata una partita pressoché dominata perché si parla di 6-3, 6-3, 6-1. La gole Munar ha perso il servizio una sola volta. Partita un po' deludente da parte di Shevchenko che si riferà sicuramente nel futuro. Kotov batte in una delle prime partite, in una delle prime maratone dell'Open d'Australia. batte Riedernek, il francese. Non so pronunciarlo bene. Non so se si pronuncia in questo modo. Comunque sia, in russo, colui anche che batte Musetti. Ha anche quella partita ridicola, ma io non ho detto di parlare. Comunque sia, stavo dicendo, vince. Se magari il telefono funzionasse. 7-5, 6-1. Poi due tie-break vinti da parte del tennista francese. Sì, due tie-break vinti da parte del tennista francese. 1-7, 1-8-6 e l'altro 7-5. Quindi 7-5, 6-1, 6-7, 6-7. E poi un 6-3 finale. Due break consecutivi in 4 ore e 42. Bella vittoria da parte di Kotov, ragazzi, che è un giocatore che ha avuto un grande inizio di stagione. Muna e una notte. Sinner batte Van de Zandt. Sculpe, ne abbiamo parlato nel video uscito quest'oggi alle 2.30. Grande prolettazione di Yannick. Sono veramente contento che Sinner abbia vinto. Sono contento che abbia vinto, soprattutto in 3-7. Come detto, Van de Zandt sculpe erano degli avversari più ossici da trovare in un primo turno. E Sinner è stato molto bravo a scardinare. Non so se si possa dire comunque sia. Spero che capiate il concetto. A scardinare tutte le ragnatele. E' stato bravo sicuramente... Lasciate stare sta frase. Scardinare le ragnatele non c'è senso. Sinner è stato bravo a vincere la partita in 3-7. E' stato bravo a soffrire nel secondo set. E alla fine a portarsi a casa all'incontro. Questa era la cosa più importante. Vincere in 3. Ed è stato bravo Sinner a fare ciò. Sono contento di questa vittoria di Yannick. Adesso affronterà De Jong. Insomma, un avversario più semplice. Quindi con il quale dovrebbe avere ancora meno problemi. Comunque sia vittoria in 3-7. Una buona prestazione di Sinner. Come detto, non un Sinner perfetto. Ma ovviamente non potevamo aspettarci che Sinner giocasse. Come aveva concluso la scorsa stagione. Già da adesso. Visto e considerato 1 che è l'avversario più debole. E 2 che è il primo turno di OnSlam. E 3 che non aveva giocato un incontro ufficiale da due mesi quasi. Un mese e mezzo per essere più corretti, concisi, precisi e professionali. Serondolo batte Swini in 5-7. Ragazzi, Serondolo fatica. Forse anche più di quanto ci potessimo aspettare. 3-6-6-3-6-4-2-6-6-2. Dopo Marozan batte Marin Cilic. Non è stata una gran performance di Cilic. Primo set nel quale non ha vinto un game al servizio. Un qualcosa di particolarmente inusuale. Anzi, non ha vinto un game al servizio. L'ha vinto, scusami, sì. Ha vinto solo un game al servizio su quattro. Qualcosa di inusuale per il tennista di nazionalità croata. 6-1 al primo set in favore di Marozan. Dopo 2-6, secondo set buono di Cilic. 6-2-7-5. Break finale che sa un po' di beffa. Perché comunque se ci stava provando a razzuffolare un tie break nel quarto set. E potenzialmente provare un insperato. Provare a vincere un insperato quinto set. Potremmo anche dire, visto l'andamento del terzo. Comunque sia Cilic deve ancora riprendersi. Quindi, del tempo sarà necessario per il tennista balcano. Per poter arrivare a ottenere dei buoni risultati. Non come Cilic dei tempi d'oro. Ma magari come Cilic anche degli ultimi anni. Ma credo che Cilic sia un altro che è abbastanza vicino al ritiro. Rublio per ragazzi. Fatica molto più del dovuto contro 6-1. Ragazzi, questa partita mi ricorda quella con Miedvedev. È un Rublio per ragazzi che ha rischiato seriamente di perdere con due set di vantaggio. E che sarebbe stato sicuramente poco positivo. E soprattutto considerando l'irrascibilità di Rublio. Credo che avrebbe spaccato tutto qualora fosse già uscito al primo turno. Soprattutto dopo aver vinto i primi due parziali. Comunque sia, vittoria del tennista russo. Per 7-5, 6-4, 3-6, 4-6. 7-6, 10-6 a Typrick. Dopo 3 ore e 42 di partita. Seibot un'altra partita fantastica. Non primo turno slam contro un altro russo. Questa volta l'esito non è stato favorevole. E ben a meno. Vabbè, lasciamo stare. Non utilizziamo termine dopo il FG. Favorevole andava bene. Sicuramente non è stato favorevole. Questa volta lo scorre risultato non è stato favorevole. È al tennista brasiliano. Però comunque sia, bella prestazione. Nel quinto set, ragazzi, stava sopra 4-1. Poi, bravo Rublova, ragazzi, a tenere duro. 6-4 anche. Bravo Rublova a tenere duro e a rimontare. Una partita che rischiava seriamente di scivolargli di mano. Masciac batte in tre parziali. Mokizuki. Partita non semplice. Se non per il secondo set, però. Vinta. Questo è quello che conta. O'Connell batte Garini in 5-7. Altra partita è da 5-7. Durata 4 ore e 21 minuti. mica male pure questa. Dopo De Jong batte Kachin a 3-7-1. De Jong quindi sarà il tennista che affronterà Yannick Sin al secondo turno. Baez batte 2-7-1. JJ Wolf che perderà posizioni in classifica. Ragazzi, il primo set vinto da JJ Wolf. Poi i tre set successivi. Semplicemente una mattanza da parte di Bizer. Che ha anche portato bene al primo set. Poi è successo qualcosa. Non l'ho vista. Quindi potrebbe anche essere un infortunio. Non ne parlo molto di questa partita. Comunque sia. Ritino di JJ Wolf. Poi. Fritz. Sono contento che abbia vinto ragazzi perché ce l'ho al Fanta Tennis. Mi aspetto che arrivi ai quarti perché c'è un tabellone semplice. Ma non sta in forma. Quindi questo è stato un altro rischio. Comunque sia. 4-6-6-3-6-6-2-6-4. Grazie al cielo che ha vinto Fritz. Ma non mi sarei mai aspettato che avrebbe faticato così tanto contro il tennista argentino. Uno che è tutto forché un tennista da veloce. Comunque sia grazie al cielo. Grazie al cielo. Sì e per fortuna perché mi ha fatto a tennis ha vinto Fritz. Dopo Galan batte Kubler in 5-7. Non mi aspettavo questa. Io mi aspettavo che vincesse Kubler. Dopo 5 ore. 4-5-1 di partita. Ragazzi. Kubler perde 10-8 al tie. Perché è un'altra maratona. Dopo Ailes vince contro Harris. Beh sì partiva favorito Harris ma come detto non è l'Harris. Di una volta. Di tre anni fa che aggiunse quarti di finale a Flushing Medals contro Alexander Zverev. Comunque sia vince il tennista francese contro il tennista sudafricano per 4-6-7-6-7-5-7-6. Comunque sia stata una partita abbastanza equilibrata. Djokovic batte Prismic 3-7-1. Non mi sarei aspettato che Djokovic necessitasse di 4 ore, 4 ore un minuto per vincere qua. Soffa scrivice 3 ore e 5 ore ma abbiamo visto chiaramente. We have clearly seen the clock ticking around. Vi è piaciuta questa espressione in inglese? Qualcuno di voi che è madrelingua? O te Alessandra che vivi in Inghilterra da decenni? Dai. Questo è veramente davvero british. Davvero inglese. No, io non mi vanto il mio inglese che è tutto è normalissimo. Non è che adesso io... Lo volete un altro video in inglese? By the way. Tornando a quello che stavo dicendo. Sicuramente non è durata 3 ore e 59. Almeno l'orologio che stava sulla roda di Velarena segnava 4 ore. Quindi verosimilmente la partita si è prolungata e si è avventurata nella quinta ora. Djokovic vince 6-2-6-7-6-3-6-4. Partita complessa per Djokovic, partita nella quale ha rischiato anche di andare a un quinto set. Mi aspettavo che avrebbe vinto anche se per un caso Prismic avesse vinto il terzo. Non credo che Djokovic si sarebbe fatto battere facilmente in quel quarto set. Dunque sia Prismic sicuramente ha sorpreso moltissimi. Ne ho parlato nel video di questo maneggio del treno. Non voglio che questo video dira troppo, quindi ne parlo un po' meno. Dunque sia Djokovic che ha fatto molta fatica col dritto soprattutto. Djokovic batte Koric 3-7-1. Koric è probabilmente il tenista più complesso per un primo turno, per una testa di serie. Pao Picpo a sbarazzarsi in 4 braziali. Il secondo set è sicuramente cruciale perché è un contestare un set pari. Dopo che l'altro divince un set di un'ora e venti è un contestare 2-7-0 avanti. Poi è vero sì, il terzo set Koric ha risposto e lo ha vinto. Però poi il quarto set l'ha vinto. Quindi si impone il tenista statunitense, il tenista stelle e strisce per 6-3-7-6-2-6-6-3. Ragazzi, si conclude la prima giornata dell'Australian Open anche per me e anche per noi. Vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Non ci si vede questa sera alle ore 9 con il video analisi e pronostici del Day 2. Non so come si dice, non so come si dica tu. Perché ci sta chi dice, ci sta chi dice chu. Nel senso, no. È una via di mezzo tra tu e chu, sicuramente. Perché chu suona male e tu suona meglio, ma non credo sia corretto. Ma mi dovrò informare per quanto riguarda questa pronuncia, se qualcuno la sa, la scrivesse. Comunque sia, finisce qua. La prima giornata dell'Open Australia, sia per noi e sia per i tennisti e per tutti gli esseri umani che circondano questi atleti, ci si vede domani. Anzi, scusatemi, sa stea. Non sono video da fare tra video di un giorno. Alle ore 21, grazie a tutti per il supporto. Ciao.